Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi sono qui per proporvi un workout prima della prossima apertura dei box, che sarà tra qualche giorno. Spero che vi possa piacere, vi possa sperare in qualche modo. Partiamo subito con il warm up. Per quanto riguarda il warm up, ho pensato a fare tre round e per ogni round faremo tre esercizi e ogni esercizio dovrà essere svolto già 30 ripetizioni. Primo esercizio sono 30 jumping jacks. Secondo esercizio 30 plank shoulder taps, quindi ci mettiamo giù di plank e con la mano ci tocchiamo la spalla opposta. quindi saranno 15 per braccio. Ultimo movimento, faremo 30 swimmer kick, quindi ci mettiamo giù, facciamo una bella low position e poi su giù con le gambe. Mi raccomando tenete la schiena completamente attaccata al terreno. Bene, questo era il nostro warm up. Per quanto riguarda il workout, il workout sono un accumulo di 100 one dumbbells per il press, però ogni due minuti dovremo fare 5 back piece, ok? movimento è questo. potete cambiare mano ogni volta che... cambiare mano, cambiare braccio. ogni volta che volete. L'importante è che ogni due minuti fate questi 5 back piece. Ok? E niente, spero che questo workout vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao!